La comunione dei Santi. 27 settembre 1973. Figli di Letti, il giorno che dedicate alla riparazione, ha una grande importanza per voi e per la Chiesa. La riparazione è un atto d'amore verso di me che, specialmente nella Santa Eucaristia, ricevo oltraggi a non finire. Ma è anche un dono d'amore che voi fate ai fratelli, a cui vengono così perdonati i propri sbagli e che vengono richiamati al bene, per mezzo della vostra preghiera. La comunione dei Santi è una realtà a cui troppo poco i miei figli ricorrono e pensano. Sia per arricchire quel patrimonio comune, che è dato dai meriti di tutti, sia per attingervi, quando si sentono troppo poveri, privi cioè di quelle virtù e di quelle ricchezze spirituali, che molti possiedono. Quando un'anima vive in grazia di Dio è come una fucina in continua lavorazione, che produce a vantaggio di tutta la comunità. Il produrre solo per se stessi riuscirebbe dell'eterio, poiché l'egoismo rovina ogni cosa al punto di trasformare anche il bene in male. Il cristiano non è un'isola nella chiesa, ma inserito in modo reale e profondo nel corpo mistico, diventa una piccola cellula vitale. Così anche di piccole azioni apparentemente insignificanti, il Signore fa strumenti e mezzi di salvezza. Vi sono persone che sono tanto umili da credere che la loro preghiera non valga nulla. È un errore, perché, se si è in grazia di Dio, è Lui stesso che prega in voi e questa preghiera, depositata nella chiesa, matura frutti di vita eterna. Sale un'invocazione a Dio, alla Vergine, ai Santi o alle anime purganti che sollecita grazie per tutti. Qualcuno di voi dice, io ho pregato, ma non ho ottenuto nulla. Può anche essere vero, ma la tua preghiera non è caduta nel vuoto. Se non ha beneficato te, ha beneficato altri per cui era urgente un aiuto spirituale o materiale. Poi vi sono coloro che soffrono e si domandano, perché mi è riservata una vita di contrarietà e di malanni? A che pro? Meglio non essere nato. Figli, se voi sapeste che cos'è il paradiso, non parlereste sicuramente così. Ma sappiate che ogni lacrima, ogni pena, ancorché piccola, è una moneta che va ad arricchire i forzieri eterni. Di tutto avrete una ricompensa, poiché Dio, giustizia e bontà infinita, retribuisce abbondantemente anche un solo bicchier d'acqua dato nel suo nome, ed insieme le vostre sofferenze diventano i beni preziosi, di cui possono approfittare tutti gli uomini. Forse da una sofferenza prolungata sbocceranno, come fiori, vocazioni sacerdotali o verranno conversioni e santità. Figli, quando in paradiso incontrerete anime che in terra voi non avete mai conosciuto, anche di popoli o paesi lontani dai vostri e da esse vi sentirete ringraziare e benedire, ne rimarrete stupiti. Di quelle pene, che in terra avrete accettato ed offerto, divenute proprietà comune e avvalorate dalla grazia, Dio si servirà per chiamare molti alla santità. Quella dei cristiani è tutta una famiglia in cui non deve esistere né il «mio», né il «tuo», ma solo il «nostro», anche se il Signore terrà conto dei meriti personali. Non vi ho forse insegnato a chiedere grazie per tutti? La carità, che deve dimorare nei vostri cuori, vi spinga ad essere sempre più generosi. Come in una famiglia ben condotta tutti i membri lavorano con uno scopo unico e tendono a migliorare le condizioni di ciascuno. Così, tutti uniti e con lo sguardo teso alla vita eterna. I miei figli devono procurare di aumentare quei tesori che possono tornare a bene di tutti. Sono il vostro Gesù. Mi sono fatto uno di voi per insegnarvi a camminare sulle mie orme. Fate dunque come me. Santificate il momento che passa, e di tutta la vostra vita, sia che scorra serena o turbolenta, fate un'offerta per tutti. Più profondo sarà il vostro attaccamento a me. Maggiori saranno i vostri meriti. Allora la vostra riparazione si allargerà e coinvolgerà tutti coloro che sbagliano. La vostra preghiera diventerà veramente cattolica, cioè universale. Iniziata qui, continuerà a casa e dovunque, con le opere e con l'esempio. Figli, vi benedico. Benedico i giovani presenti a cui dichiaro ancora una volta la mia predilezione. Benedico coloro che soffrono nel corpo e nello spirito e, mentre assicuro a tutti il mio aiuto, chiedo a ciascuno di essi. Vuoi darmi la tua goccia di sangue per la salvezza dei fratelli? Benedico le mamme e i papà. Benedico voi e tutta la chiesa. Quando, relegato definitivamente nell'inferno, il demonio non potrà più recare alcun danno, avrà inizio il regno d'amore e di pace, in cui la comunione dei santi avrà il suo trionfo. Arrivederci e grazie per il vostro dono d'amore.